A Scampia si riaccendono le telecamere e i riflettori sul quartiere che negli ultimi vent'anni è diventato un simbolo nel bene e nel male. In alcuni casi è diventato un brand o uno status per chi vive nel jet set dello spettacolo, della musica o del cinema. Però ci sono voluti un crollo, i morti, i feriti e delle bimbe in condizioni gravi per rivedere i flash del circo mediatico. Quella vela racconta di 50 anni di lotte, di conquiste di sangue che ancora continua a scorrere. Ci sono le occupazioni a inizio anni 80 dei movimenti di lotta e di quel comitato che in vittorio passeggio ha avuto un indomito leader. Quella vela doveva restare in piedi secondo il progetto Restart, ma qualcosa è andato storto e sarà la magistratura a dirlo con le indagini in corso. Quel crollo e queste vittime sembrano dire a una certa narrativa pubblica che i morti a Scampia non li fa solo la camorra, né le fiction possono essere il male assoluto. L'altra notte è franato un ballatoio che parla di tutte le periferie che circondano il Luna Park turistico, di una Napoli che cambia ma non muta nelle sue disuguaglianze. Come nel 1980 anche oggi l'unico grido è sempre lo stesso. Fate presto!